Baldwin Young, che è il protagonista di Scenes from the Postdiaspora, scene dalla postdiaspora, insieme all'Ensemble Garage and Friends, che portano la loro proposta musicale questa sera alla Sala Pegasus, uno spazio piccolissimo, molti di voi lo conoscono, qualcuno magari lo scopre oggi, è un luogo bellissimo nel centro, nel cuore medievale di Spoleto. Allora, welcome, Baldwin Young è pianista, compositore, docente, ma è anche innamorato dei luoghi del mondo, perché nasce a Filadelfia, ha origini dell'Estremo Oriente, origini cinesi di Taiwan. I miei genitori sono di Vietnam. Di Vietnam, quindi lui di Vietnam, però c'è un legame con il mondo anche della Cina, di Taiwan. Quindi Vietnam, Taiwan e poi l'Italia, in particolare Roma, per la residenza all'Accademia americana. Sono questi elementi che tutti insieme danno l'idea di Scenes from the Postdiaspora. Allora, un aspetto interessante, questo concerto è in qualche modo anche un biglietto da visita, un piccolo modo antologico con cui si può conoscere la musica di Young, perché ci sono tre lavori suoi. C'è anche Songs After Sofian, che sono delle elaborazioni che partono dalla musica di Sofian Stevens, e poi My Axe, My Gun, My Wayward Son, che è la mia ascia, ma è anche la mia chitarra, la mia pistola e il mio figlio imprevedibile, che è una riflessione per quattro musicisti sulla guerra del Vietnam, usa anche la cinematografia. Che cosa vuoi raccontare? Che cos'è quest'idea della postdiaspora? E come si rivela nella musica? What is postdiaspora? How do you reveal this? How do you really create this through music? Music and images, I guess. Sì, ok. Provo un po' in italiano. Quando non lo prendo più, cambiamo all'inglese. L'idea di postdiaspora è un perspettivo di vedere il concetto di diaspora a punto di vista futuro, non il passato. perché usualmente spesso si pensa di diaspora e si pensa di passato, un tipo di nostalgia per un tipo di tristezza per non essere a un luogo, un proprio paese, un proprio paese, un po' patria. ma l'idea di postdiaspora è fondata per una scrittrice si chiama Shumei Sher e è un'idea che dopo globalizzazione, tutti i migranti devono essere, devono essere, devono essere, devono essere, devono essere, devono essere, divenire locali, di luoghi, yeah, they just deserve to be locals. Cioè, tutte le persone, migranti, but when you say migrants, it does not necessarily mean people who migrate also for dramatic and serious reasons, and unfortunately there are so many, but also people who move, everybody has the right to move and to feel at home where he lives. Cioè, chiunque ha il diritto in un mondo globalizzato, però è una questione molto complessa di sentirsi a casa nel luogo in cui vive. Se pensate che sia così semplice, immaginatevi improvvisamente in Finlandia oppure in Peru e pensate che da quel momento siete cittadini di quel luogo. Non è così scontato, bisogna viverci del tempo, bisogna che succedano delle cose. Ma è interessante questo punto di vista, perché Baldwin sceglie tre città. Quali sono queste tre città e che cosa hai costruito in queste tre città dal punto di vista musicale e visivo? Sì. L'intercittà è Philadelphia, dove sono nato e sono cresciuto, e poi Taipei, dove ho passato un anno come un Fulbright Scholar, e poi Roma, dove abito adesso a chimica romana. Il video, il concetto è molto semplice. Nel video porto un strumento cinese e anche un strumento vietnamese. Un strumento cinese si chiama pipa. Come un liuto, una forma di pera a quattro corde, un strumento fondamentale della musica cinese. Ho fatto una collaborazione con tre registi delle tre città. e prima ho fatto il video e poi ho scritto la musica per sapere, per scoprire il significato emozionale di questo video, perché mi interessa scoprire le condizioni di sentire incluso o non incluso con gli strumenti e questi urban environments. Questo è l'ambiente urbano. L'ambiente urbano di Philadelphia, di un quartiere molto vivace di Taipei e di un luogo molto speciale. c'è il parco di Villa Gordiani a Roma di notte però, dove vengono degli incontri notturni e quindi un luogo molto speciale perché c'è chi si incontra di notte e in questo caso soprattutto una comunità di migranti che non ha tantissimi punti di riferimento se si vuole incontrare, soprattutto in ambito queer. Un altro aspetto che mi interessa è l'uso della musica perché stiamo parlando di un mondo globalizzato ma la tradizione musicale da cui parte Baldwin Jung è la traduzione occidentale, in realtà quella che fa riferimento di partenza all'Europa, magari poi arrivata negli Stati Uniti, ma continua ad essere incardinata, ad avere la base qui. Allora quanto è importante anche che questa tradizione musicale non sia più solo europea ma sia patrimonio di tutti o che noi cerchiamo anche di avvicinare altri patrimoni culturali? Sì, 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 sì. Sì, sono fondato in Ocidentale ma anche ho studiato la musica cinese, tradizionale cinese e mi interessa molto l'ibridismo. e penso che questo è il legame tra la musica e i luoghi perché i luoghi tenono un hold? si Tengono, 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 tengono una molteplicità di perspettivi e significati emozionali e anche la musica portano molti diversi perspettivi. Quindi ci sono tanti piani diversi, tanti strati. Tanti strati, sì, sì. Quindi credo che tutti portiamo diverse perspettive a un paese proprio come portiamo diverse perspettive alla musica. Noi portiamo le nostre perspettive differenti in ogni luogo esattamente come noi portiamo le nostre diverse perspettive all'interno della musica. Quanto tempo sei stato fino adesso a Roma? Fino ad agosto. No, ma da quando sei? Oh, da settembre. Da settembre hai imparato l'italiano così, scusate, mi complimenti. Con una proprietà di linguaggio, considerando quante altre lingue già Baldwin Giang parla. Allora, l'appuntamento, io non vi dico di più perché dovete poi scoprire la parte video e come si mescola con la musica andandola a vedere. Scenes from the post diaspora con l'Assemble Garage. Ecco, diciamo solo due parole. Chi sono i musicisti dell'Assemble Garage? I musicisti sono molto, molto bravi e... Molto pazzi. Molto pazzi. Sì, la musica è molto difficile. di Taiwan, la mia professoressa di PIPA, di Wuhan, e poi il direttore Elias Peter Brown. Benissimo. Allora, l'appuntamento è alle 21 alla Sala Pegasus. Speriamo di avervi incuriosito perché sono almeno tre viaggi diversi, uno a Filadelfia, uno a Taiwan e uno a Roma, che sembra così vicina, ma in realtà può essere anche molto lontana. Grazie, grazie a tutti. Grazie Baldwin, grazie davvero. Grazie mille. Grazie a tutti. You are loco, I would say. See? Definitely. Ciao, grazie. Grazie.